espresso appunto nelle cartelle radicotiche. Ha ragione anche l'eretico quando nota l'indicazione di tutta una serie di simbologie che appartengono a questo artesco, sullo sfondo del quale c'è probabilmente rappresentato una citazione del Tempio di Salomone. E qui volevo aggiungere un'altra cosa, proprio scrittando la presenza di Andrea Proci con il quale abbiamo condiviso una serie di esperienze. Noi abbiamo analizzato quello straordinario contenitore di simboli, oltre che di immagini artistiche bellissime, che è la cosiddetta cripta della catturale, in realtà non è una cripta, come sappiamo, è qualche cosa di diverso. Questo ambiente che è venuto alla luce venti anni fa, è dove abbiamo ritrovato degli esempi di scuola sienese del XIII secolo semplicemente straordinari. però a noi è interessato perché ci sono una serie di simbologie che forse non erano state notate dai primi scopritori, che hanno a che fare con l'apparato simbolico e i modelli culturali degli antichi costruttori. Cioè noi riteniamo, con Andrea, che questo luogo, questa pseudocritta, abbia funzionato per un certo periodo di tempo, in particolare quando fu deciso di non fare più il domo nuovo e quindi fu abbandonato, praticamente fu abbandonata questa impresa titanica, fu questo ambiente che deve essere stato utilizzato come ripostiglio, come deposito dei materiali e come loggia. Nel senso, diciamo, che avevano queste maestranze nel XIII, XII e XV secolo. C'è un quadro di Van Eyck che rappresenta appunto molto bene questa situazione, dove si vede appunto addossata a una cattedrale una specie di tettoia molto semplice, nella quale appunto si conservavano gli strumenti di Arnesi, ma nella quale anche le maestranze si riunivano per trattare i loro problemi. Di queste maestranze noi abbiamo la sicurezza che moltissime sono legate appunto alle valli del nord, alle valli intorno a Lugano, Comu, il famissimo maestrino Mascini e abbiamo anche la sicurezza che si trattasse di nuclei familiari che di padre e figlio per secoli si trasferivano i segreti dell'arte in oratoria, anche i segreti simbolici. Cosa abbiamo trovato qua dentro? Abbiamo trovato due cose importanti, ora una ve la cerno io di una verità vera, appunto, Andrea. Dentro e fuori. Dentro abbiamo trovato una serie di riferimenti chiaramente legati a questo mondo, due in particolare. Uno è il nodo di Salomone, proprio disegnato, inciso su una parte del muro, e l'altro che abbiamo trovato il pentalfa, il pentalfa di Dallorio. Allora, il nodo di Salomone si chiama così perché si dice che appunto sia appartenca, sia stato realizzato dal mitico re di Israele, il costruttore del Tempio. In realtà, una grande antropologa lituana, Maria Grimbutas, ha dimostrato che questo nodo, che probabilmente allude ai movimenti della Luna, si ritrova in un'antichissima cultura di molti centinaia di anni precedente alla costruzione del Tempio di Salomone, che è quella, la cosiddetta cultura di Cucuteni in Romania. Questo nodo ha valenze di carattere magico, sapete che il nodo serve per regare e può essere usato sia positivamente che negativamente. In questo viene usato nella magia medievale e anche in quella successiva. La seconda cosa, la seconda citazione estremamente importante è il pentalfa pitagorico. Il pentalfa vuol dire 5 alfa e rappresenta praticamente i quattro elementi di cui è composto l'uomo, quindi l'universo, quindi la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco. E il quinto, che è la punta della stella, rappresenta appunto l'elemento spirituale. Bene, perché è importante? Perché i costruttori conoscevano un segreto di questo pentalfa. Cioè se voi iscrivete un pentalfa in un pentagono, cioè questa stella a 5 punti in un pentagono, a sua volta all'interno del pentalfa che avete realizzato all'interno del pentagono, potete iscrivere un altro pentagono e un altro pentalfa e così via all'infinito. E perché questa immagine quindi era così importante? Perché per esempio l'ha usata un architetto come Vitruvio? Perché per esempio l'ha riusata un architetto come Leonardo e oggi la usiamo noi nella moneta da un errore? Perché rappresenta appunto la capacità di evoluzione verso l'infinito. Ecco noi abbiamo scoperto queste e anche altre cose, di cui è inutile e sarebbe lungo parlare, però vorrei fare riferimento a una scoperta che abbiamo fatto insieme ad Andrea che ora ve la illustrerà, perché noi riteniamo di aver individuato possibilmente, cioè in questo campo capite le ipotesi, sono sempre, è bene sempre andare per i forzi, abbiamo pensato di trovare una matrice che testimoniano la partecipazione.